Posso rispondere su questo, per anzi ringrazio Arditi tra l'altro perché è sempre, pur avendo posizioni diverse, un interlocutore chiaro. Voglio dire una cosa, allora partiamo un attimo dall'ILVA. L'ILVA per risanarla, renderla competitiva e renderla compatibile con l'ambiente, ci vogliono 7-8 miliardi di euro. Questa è la verità. Tutto il resto sono chiacchiere. C'è un privato multinazionale che ci mette 7-8 miliardi di euro? L'Arcelor Mittal è il più grande, ce ne ha messo 500 milioni ed è scappata. Quindi la soluzione privata in Italia, possiamo girarci tutto, non c'è, non siamo riusciti a trovare nemmeno il privato che salvasse la Pernigotti, che è di nuovo in crisi, nemmeno la Pernigotti. Quindi la questione è ricostruire l'intervento pubblico, ricostruire non solo la nazionale, le politiche industriali, il controllo pubblico. L'Italia ha bisogno dell'acciaio, sì, io penso che l'acciaio sia necessario perché tra l'altro l'acciaio in quanto tale è meno inquinante della plastica, però non può essere prodotto. La fermo un attimo, Cremaschi, perché qui all'aria che tira ci piace vedere.